Io sono l'ingegnere Manzo Alessio, lavoro alla Certec nel Canavese in provincia di Torino e oggi presenteremo il progetto di una centrale idroelettrica nel Po a Casale Monferrato in provincia di Alessandria realizzato tramite Modest. Ci sono vari elementi che compongono la centrale, tra cui l'attraversa di sbarramento nell'alveo del fiume, il canale di carico, l'edificio centrale e poi il canale di scarico. Noi presenteremo i principali elementi che abbiamo progettato con Modest. I principali vantaggi dell'utilizzo di Modest sono stati, essendo una struttura prevalentemente elementi bidimensionali, quindi solette, platee, pareti. È stata la semplicità nel mesciare gli elementi bidimensionali e poi soprattutto il fatto che quando c'era qualche problema, perché essendo un'opera molto complessa potevano insorgere dei problemi, la cosa più importante è stata che abbiamo trovato un ottimo aiuto nell'assistenza di Modest, che ci hanno aiutato molto nella realizzazione del progetto. Noi utilizziamo Modest per il calcolo del strutture in calcestruzzo armato, in acciaio, in legno, in muratura, per la verifica dei strutture esistenti. Diciamo che quello che ci permette di utilizzare sempre Modest è la facilità con l'assistenza, che sono sempre molto veloci, puntuali, e quindi ci troviamo molto bene con Modest. E poi anche il fatto che passare ad un altro programma richiederebbe molto tempo, molto lavoro e non c'è mai, perché è sempre poco il tempo per realizzare i progetti. Grazie. 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 Grazie.